Un brutto sogno, anzi un incubo, quello vissuto la scorsa notte da una famiglia nel Catanese. Siamo a San Giovanni la Punta, quando nel cuore della nottata un malvivente si introduce all'interno di una villa, sorprendendo nel sonno una giovane coppia e il loro figlioletto di poco più di un anno. Partono le minacce per farsi consegnare tutti i preziosi all'interno dell'abitazione dal valore di oltre 20.000 euro. Il rapinatore prova a scappare, ma senza successo, in quanto un vicino di casa delle vittime, dopo aver sentito delle urla, aveva allertato i carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto, cogliendo il criminale in fragrante. A finire in manette un giovane di 20 anni che a quanto pare stava portando a termine il colpo con l'ausilio di un complice che è però riuscito a scappare. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L'arrestato, accusato di rapina aggravata in concorso, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza, mentre sono ancora in corso le indagini per identificare il complice.